Questa è la seconda volta che provo a registrare questo video, la prima era andata malissimo, era stato un totale disastro, quindi incrociamo le dita! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Francesca. Allora, nel video di oggi vi farò vedere tutti i prodotti che avevo mostrato nello scorso video, che ovviamente vi lascio qua. Io ho già un po' di prime impressioni su questi prodotti, ma ovviamente li ho provati solo in quel video là. Quindi questa sarà l'occasione per ritestarli nuovamente e cercare di capire un pochino meglio se questi prodotti possono fare a caso mio, se mi possono piacere, se in un qualche modo possono essere interessanti e utili. Se questo video vi può interessare e vorreste continuare a vederne altri su questo canale, mi raccomando, ricordate di iscrivervi al mio canale, attivare la campanina delle notifiche e se vi va di seguirmi anche su Instagram. Io so già da quale prodotto partire e vi spiego anche il perché. Il primo prodotto che andrò ad utilizzare sarà questo, il Sobrow di Makeup Revolution. E perché voglio partire da questo qui che è un prodotto per le sopracciglia, un sapone che ha lo scopo di andare a liftare le sopracciglia, alzarle tantissimo e fissarle. Perché la prima volta che l'ho utilizzato io avevo già la base pronta, già fatta. Sono andata a appunto voler utilizzare questo prodotto con il suo spazzolino che è questo qui e vi dico la verità è venuto fuori un completo, totale disastro perché tutto il fondotinta mi si era spostato completamente. Avevo la colla dappertutto, avevo il sapone dappertutto e quindi l'effetto era assolutamente orrendo. Quindi ho pensato, quando rifarò il video mi sa che partirò proprio da questo qui. Allora praticamente come si usa questo prodotto? Come vedete qua c'è il sapone, deve essere bagnato prima di essere applicato perché altrimenti non funziona proprio a dovere. E un'altra cosa che vi posso dire è che lo spazzolino con il quale vi arriva il prodotto, che dovrebbe essere quello perfetto per questo utilizzo, a me non piace per niente. Cioè proprio è troppo, ha le setole molto molto dure, è molto grande quindi non vi aiuta a fare poi un lavoro più preciso. Io andrò ad utilizzare questo qui che in realtà è un, sarebbe un gel per le sopracciglia colorato. È finito ma io lo tengo lo stesso perché ha questo scovolino che è molto 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 piccolo, corto, stretto. Quindi è davvero adatto a tirare su ogni singolo pelo. Bene, quindi direi di partire, tiro via questo spazzolino che tanto non mi piace per niente. E vado a bagnare il sapone utilizzando un fixing spray. Io utilizzo questo qua di Urban Decay. Ok, bene, sapone bagnato, vado con questa spatolina e vado a grattare il sapone. Ok, qua me ne è uscito un grumo gigante. Allora vi dico la verità, questo prodotto l'ho già utilizzato un paio di volte successive alla realizzazione di quel video e vi posso dire che utilizzato nel modo giusto con questo scovolino che è più piccolo. Bagnato bene perché mi era successo che l'avevo bagnato anche troppo. E quindi in realtà era stato controproducente perché sentivo solo acqua, solo liquido, ma non il potere fissante del prodotto. Quindi una volta che si trova la combinazione giusta di quantità di setting spray, o io ho usato anche l'acqua a volte, davvero funziona benissimo. Me le tiene a posto tutto tutto il giorno. È assurdo. Io con il gel per i capelli mi sono sempre trovata bene, però effettivamente questo ha un potere fissante incredibile. Quindi se vi piace l'effetto fluffy brows, questo fa proprio al caso vostro. Quasi non sento neanche la necessità di andarle a riempire con un prodotto. Praticamente me le va anche quasi a riempire, va a ridare loro una forma, una dignità. Adesso lo faccio un attimo asciugare, poi dopo vediamo se avrò voglia di andare a riempirle. Altri prodotti che ho comprato sono due primer molto diversi fra di loro. Il primo è il Glass Liquid Skin di Makeup Revolution, che è un primer illuminante. E l'altro è sempre di Makeup Revolution ed è il Pore Perfecting Primer. Quindi riempitivo per i pori e leggermente opacizzante, penso. La mia idea sarebbe quella di usarli entrambi. Quindi dove voglio essere più radiosa, sui lati del viso, andare ad applicare questo. e al centro del viso, dove ho i pori dilatati, applicare questo qui. Partirei da questo qua illuminante. Allora, vado ad applicarlo direttamente sul viso. Lo metto un po' qua sulla tempia, sugli zigomi. Un po' qui sul naso, che tanto vado comunque a mettere l'illuminante. Quindi lì un po' di luminosità non mi spaventa. Allora, il profumo di questo prodotto è davvero buonissimo e ha un effetto radioso molto leggero. Non è impattante, questa cosa mi piace molto, perché avendo io la pelle mista, sì, voglio essere radiosa, ma non una palla da discoteca. E rimane un pochino appiccicoso. Ok, invece, al centro del viso, quindi vado a mettere questo qua. Ovviamente vedrete che alcuni prodotti sono già stati usati, perché appunto avevo già tentato di registrare un video di prime impressioni. Questo qua si presenta in questo modo, con la spatolina con la quale si va a prelevare il prodotto. Quindi andiamo... Una cosa che non ho ancora capito, giustamente perché questo l'ho usato una volta sola, è quanto prodotto debba essere applicato. Non voglio esagerare, ma neanche metterne troppo poco. Io lo spalmo un po' così e lo vado a picchiettare in modo da farlo proprio entrare all'interno dei pori. Allora, mi sembra che abbia aiutato. Comunque la situazione mi sembra migliorata. Non so quanto, ma forse riuscirò a notarlo un pochino di più quando andrò ad applicare il fondotinta. Lascio un leggero cast bianco, ma non dovrebbe essere un problema. Tra l'altro avevo visto alcuni video, non recensione, ma di persone che utilizzavano questo prodotto e se mi ricordo bene potrebbe fare un pochino di flashback. Quindi bisogna stare attenti con le quantità. Infatti temo di avere un pochino esagerato, ma va bene. Forse questa sopracciglia qua è da riempire. Allora, un altro prodotto che vorrei applicare prima del fondotinta è questo illuminante liquido sempre di Makeup Revolution. Questo è l'unico prodotto che per il momento mi ha lasciato un po' così perché lo vedo molto molto glitterato. Mi sembra che ci siano più glitter che non una vera base luminosa. Però, insomma, è giusto dare una seconda possibilità a chiunque e a qualsiasi cosa quindi oggi noi gliela daremo. Già vedendolo così, non so se riuscirete a percepire, c'è una quantità di glitter mostruosa. E lo metto prima del fondotinta perché un po' mi spaventa questo prodotto quindi per evitare disastri proviamo a fare in questo modo. Fari con me? No. No, questo prodotto non mi piace, sono solo glitter. Cioè, da lontano è carino. Però poi visto da vicino, cioè, proprio si vedono. Sono anche grossi. Penso che questo non faccia per me. Poi, proseguendo, vi faccio vedere questi prodotti di Kiko che avrei da provare che sono questo fondotinta luminoso della Toscan Collection, la cipria della stessa collezione illuminante e questo fondotinta liquido che ho preso in una tonalità scura da utilizzare come bronzer. Ora, siccome ho una base al momento abbastanza radiosa tra illuminante liquido, primer illuminante, una cosa e quell'altra, non vorrei esagerare con la luminosità. Quindi penso che questo lo proverò più avanti, in un'altra occasione. E penso che utilizzerò per la mia base il mio fondotinta preferito che è lo Stay Naked di Urban Decay, se vi interessa, nella colorazione 30nn. Secondo me è un pochino scuretto per me al momento, non lo so, mi vedo impallidire sempre di più giorno dopo giorno. Non avremo appunto quindi una base nuova da provare, ma abbiamo uno strumento da provare, che è la spugnetta in microfibra di Juno & Co. Questa l'ho vista utilizzare tantissime volte da Basic Gaia nei suoi video. Come vedete l'ho già utilizzata, ma solamente in occasione di quel video fallimentare. No, con queste luci non mi sembra neanche troppo scuro il fondotinta, ma forse un pochino lo è. Mi sembra che mangi meno prodotto rispetto alle spugnette classiche, quindi dovete stare attenti con la quantità di prodotto che applicate, perché se ne mangia davvero poco. Infatti mi sa che su questo lato del viso ho forse esagerato. In più sapete che da molti mesi utilizzo quasi e solo esclusivamente pennelli per realizzare la mia base, quindi non sono neanche tanto più abituata ad usare le spugnette. La cosa che mi fa strano è che l'ho bagnata poco tempo fa e la sensazione che mi dà è di una spugnetta praticamente asciutta, quindi non capisco che fine abbia fatto l'acqua che avevo utilizzato prima per bagnarla. Ma ditemi una cosa, in questo periodo in cui tutti siamo in casa, anche a voi capita di dover lavare molto più spesso i capelli, perché nel giro di un giorno sono già sporchi. Io non capisco. Questo lato dove ho messo meno fondotinta, meno prodotto, mi piace molto di più. Qua dove ce n'era invece una maggiore quantità, lo vedo un pochino più che chi. Come effetto mi sembra una spugnetta abbastanza classica, ecco. Non vedo magie o miracoli in atto in questo momento, ma magari sono io. Vado ad applicare il correttore e uso sempre quello di Urban Decay. Vediamo come si comporta questa spugnetta con il correttore. Voglio provare a fare una cosa. Allora, questo lato l'ho fatto con la spugnetta. Ora vado ad utilizzare il pennello, che è quello che uso sempre, e per vedere se noto una differenza. Allora, quello che posso notare è che mi sembra più idratato come contornocchi, questo qua steso con la spugnetta. Qua mi sembra un pochino più secchino, ma in realtà neanche tanto. Cioè, vedo una leggera differenza, ma non è una differenza abissale. Continuo ancora a vedere i glitter, qui sullo zigomo. La mia base per il momento non mi dispiace affatto. Mi sembra di vederla comunque sì, più luminosa in queste zone. Mamma mia, da questo lato, secondo me, il primer per i pori mi è servito tantissimo. Cioè, qui proprio, sembra quasi che io non li abbia. Ha fatto proprio la differenza. Ora, prima di mettere la cipria, voglio andare a provare questo fondotinta qua come bronzer liquido. E mi ricordo che dallo scorso video, appunto, dove ho provato tutto questo, non mi era dispiaciuto affatto. Questo è il Waterflower Magic Foundation Pigment Drops. E nella colorazione, cos'è? 05. Vado a utilizzare questo pennello che è Luxe Face Paint di Jessup. Ve lo ricordavo un pochino più scuro la volta scorsa. Qua mi sembra che si vada un pochino a perdere. Di sicuro non è un colore molto molto scuro, ma in effetti volevo un effetto abbastanza naturale. Ho cercato di giocare un po' sul sicuro, senza andare a prendere colorazioni che fossero troppo troppo distanti dal mio colore di pelle naturale. Ok, bene. Quindi, diciamo, bronzer applicato. Si è steso molto bene. Non ho avuto alcun tipo di difficoltà. Forse avrei potuto optare anche per un colore un pochino più scuro. Come prodotto in sé, assolutamente carinissimo e facilissimo da usare. Ora vado a fissare il mio contorno occhi e la zona T, con una cipria opacizzante. Questa qui è la Universal di Fenty Beauty. Bene. Fatto questo, vado a prendere la cipria illuminante di Kiko. Si presenta in questo modo, bianca, ma poi diventa trasparente. E anche da vicino si vede che non è una cipria opaca. E con questo bellissimo pennellone gigante vado a prelevare la cipria e la applico qui sui lati del viso. Sono più luminosa? Può essere, lo scopriremo. Ok, lo vedo, lo vedo. C'è. Cipria applicata. Ora, quello che posso fare è proseguire con il mio makeup, facendo tutto quello che non c'entra più. E poi ci rivediamo direttamente per l'ultimo prodotto. Bene, quindi ho fatto il look occhi. Ho cercato di fare una roba abbastanza semplice e veloce. E quindi direi che siamo tutti pronti per provare l'ultimo prodotto, che è la Glitter Glue di Makeup Revolution. È molto semplice perché è proprio così, tipo cremina. Io vado con un pennellino tipo lingua di gatto. La prendo e la applico dove appunto ho intenzione di poi mettere i glitter. Si spalma bene. Bene, direi quindi di provare con i glitter adesso. Vedere un po' come funzionano. Mi sembra che si siano attaccati benissimo. Adesso vedremo anche con il passare delle ore se cadranno, ma per il momento si sono proprio attaccati così. Bene, ora, ultima cosa che voglio fare, prima ovviamente di mettermi in mascara, è provare a riempire un po' le sopracciglia. Perché questa qui non mi fa impazzire e non ho ancora mai provato ad utilizzare il sapone per le sopracciglia e poi un prodotto più colorato. Non trovo facile andare a colorare dentro, diciamo, quegli spazi che si sono creati pieni di sapone. Il prodotto non attacca benissimo. Ho visto che molti, più che utilizzare un gel, come sto facendo io, utilizzano una matita. Quindi forse una matita potrebbe essere più semplice. Io al momento non ne ho perché quella che avevo di astralo finita. I peli non si muovono di un millimetro. Ok, direi che le sopracciglia sono finite, vanno bene così. Mi devo dire soddisfatta. Comunque l'effetto fluffy c'è, l'effetto naturale c'è. Le sopracciglia sono belle fissate, belle incollate al viso, quindi ottimo. Mascara e conclusioni finali. Ed eccoci qua, quindi, il look terminato. Devo ammettere che mi piace molto. E facciamo un pochino quelle che sono le conclusioni finali, i miei pensieri. Partiamo da il sapone per le sopracciglia. Questo mi piace tantissimo. È incredibile davvero quanto le riesca a sollevare e fissare. Non mi succedeva neanche con il gel per i capelli. Quindi assolutamente questo è fenomenale. Dovete acquistarlo se volete ottenere anche voi questo effetto fluffy. Due primer. Mi piacciono molto entrambi. Questo è realmente riempitivo dei pori. Bisogna trovare la quantità giusta da applicare. Però li riempie davvero tantissimo. Mi piace tanto. E anche questo devo ammettere che era quello che stavo cercando. L'effetto luminoso c'è, è percepibile, ma non è esagerato. Per chi come me ha una pelle mista, che quindi vuole avere un po' di luminosità, ma non troppo. L'illuminante liquido di Makeup Revolution, ve lo dico. Per me personalmente è un no, perché avere questi glitter così evidenti sul viso non mi piace. Forse sul corpo in estate potrebbe essere più carino. Questo per me è un no. Il fondotinta liquido di Kiko, scuro per fare bronzing. Sì, mi è piaciuto. Probabilmente non è la colorazione perfetta. Potevo azzardare con qualcosa di leggermente più scuro. Però come formula assolutamente mi è piaciuto. Perché è facilissimo da stendere. Quindi per me questo è assolutamente un pro. E l'effetto comunque è venuto fuori carino. La Glitter Glue mi è piaciuta tanto. Dovrò vedere quanto riuscirà a reggere i glitter, non farli cadere. Ma ho proprio visto che nell'istante in cui ho appoggiato i glitter alla colla, questi subito hanno fatto presa e sono rimasti lì. Quindi utilissima se anche voi come me amate i glitter e volete evitare che ci sia qualche fallout. La cipra di Kiko, anche questa, mi è piaciuta perché è un po' come con il primer. Effetto luminoso ma non esagerato. Quindi continuerò assolutamente ad utilizzarla. Penso di aver trovato anche la combinazione perfetta tra opaco e luminoso. Ho trovato l'incontro perfetto per me. Ed infine la spugnetta di Juno & Co. Forse per me è un pochino un ni, nel senso che assolutamente funziona bene. Per me è un pochino dura a sentirla, preferisco qualcosa che sia un pochino più morbido, però assolutamente funziona bene. L'unica cosa è che non ho notato particolari miracoli o cose che mi facciano dire che questa spugnetta dovete assolutamente averla, abbandonate le altre. Il fatto di essere in microfibra non la rende così tanto diversa poi alla fine rispetto alle altre. Bene, quindi questi sono tutti i prodotti nuovi che ho provato insieme a voi in questo video. Spero tanto che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia in un qualche modo distratto da quello che sta succedendo e che possa anche esservi stato utile. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!